Il disegno su carta L'immagine che tutti conoscono e quindi ha una forte dignità, un piccolo disegno, un modo per dire qualcosa in modo più diretto di altre manifestazioni creative. Una mostra, una visita è sempre un rapporto con qualcosa che abbiamo davanti e di cui non dobbiamo necessariamente sapere la storia. Quindi in questa mostra ci sono tantissimi nomi che io non conoscevo, di artisti di cui addirittura non ricordo neanche il nome adesso e probabilmente non lo ricorderò nemmeno dopo e credo che non sia necessario ricordare il nome degli artisti. Ci piacciono delle opere, vediamo di chi sono e magari andiamo a sapere di più di quell'artista che ci piace più di un altro. La Gamma è una ricchissima collezione, ci sono dei Medardo Rosso fantastici, ci sono delle opere molto particolari che purtroppo non sono conosciutissime nemmeno da chi vive a Milano. E questa mostra credo che sia in equilibrio con, è a dimensione umana, è in degli spazi a dimensione umana, è in un luogo che fu creato quando gli artisti lavoravano negli studi e non pensavano tanto ai musei di Zadid o Ryan Colas o Erzo de Meron, ma pensavano alla possibilità di far vedere quello che avevano fatto a dell'altra gente, a prescindere dall'uomo. Il contesto della partnership di UBS con Gamma è all'interno di un percorso di impegno di UBS nell'arte contemporanea. Il nostro impegno nell'arte contemporanea viene dal legame con i nostri clienti e dall'interesse dei nostri clienti. Ed è un legame che è partito con Art Basel, è andato avanti con il Guggenheim, con altre realtà ed oggi c'è questa grande opportunità. La Galleria di Arte e Modelle è un gioiello classico milanese e abbiamo avuto la possibilità di iniziare un percorso insieme. È un percorso su base triennale che abbiamo, è un percorso che prevede il nostro impegno sia nella valorizzazione delle opere che sono già nel patrimonio della Galleria di Arte Moderna, contemporaneamente anche nel dare un contributo diretto, come si vede alle mie spalle in questa mostra che sta iniziando, di opere della collezione di arte UBS che possono essere presentate qui alla Galleria di Arte Moderna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.